Un servizio perché siamo stati alla Marina Militare di Napoli dove nel corso della giornata del mare è stato consegnato il premio dei circoli nautici della Campania. Vediamo il servizio. È stata una vera e propria festa dedicata al mare con circa 1000 studenti, il premio promosso dall'Associazione Circolo Nautico della Campania alla Marina Militare. Un evento che si è rinnovato per il terzo anno consecutivo e che ha divulgato ai giovani presenti l'importanza della tutela del nostro ecosistema con l'istituzione della giornata del mare e della cultura marina che si è tenuta presso la base navale della Marina Militare di Napoli in via Acton. Di rappresentanza della regione il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Franco Picarone, che così ha commentato ai nostri microfoni. ormai alla terza edizione e credo che vengano celebrati i valori del mare, del rapporto con l'ambiente e soprattutto anche valorizzando quelli che ci lavorano sul mare e assicurano condizioni di sicurezza come la Marina Militare per tutti quelli che poi fruiscono questa risorsa che per i nostri territori è fondamentale. Quindi è una bella giornata in cui si celebrano valori importanti che sono il segno della cultura campana e napoletana. Importante riconoscimento consegnato al comandante logistico, l'ammiraio Salvatore Vitiello, presente alla giornata insieme a Gianluigi Ascione, presidente dell'Associazione Circolonautici della Campania, che così sono intervenuti alle nostre telecamere. Il mare è una risorsa preziosissima, la Marina Militare ha proprio un programma che è in tutto il mondo. Napoli è un golfo fantastico e ha un primato perché in un miglio nautico che va dal porto a Posillipo ci sono ben cinque club nautici, Savoia, il Posillipo, la Lega Navale Italiana, la sezione verica nostra, Rarinantes e questo è un record perché in uno spazio di mare così breve ci sono tante attività che si sviluppano sul mare. La Regione Campania ci ha affidato questo compito e devo dire la verità ogni anno è sempre più un successo. Ecologia, il voler mettere al primo posto la salvaguardia del mare è obbligatorio perché le future generazioni dovranno godere sempre di più di questa bellissima cosa.